salve a tutti signori io sono lorenzo e questo il mio canale espertone benvenuti bene oggi voglio parlarvi di tcl mini led queste nuove tv di questa serie 2023 la serie c805 e vi presento lei perché qui inizia veramente lo spettacolo è un 98 pollici mini led una tv enorme un tv grandissima serve di sicuro un bel spazio dove metterla ricordiamo il tcl da adesso è anche sponsor ufficiale della nazionale italiana come vediamo e questa tv guardate le dimensioni sono due metri 18 di larghezza un metro e 29 di altezza compresi i piedini e tra un piedino e l'altro abbiamo una distanza di 174 cm un tv veramente importante da calcolare bene prima di acquistarla magari essere sicuri eccola qui abbiamo i due piedini laterali appunto per tenere bene l'equilibrio perché è un pannello molto importante e anche molto pesante abbiamo questi bordi che sono ormai ridotti all'osso non si vedono neanche più praticamente e adesso andiamo a vedere un po di caratteristiche di questa nuova tv eccola qui è una google tv come vedete abbiamo la gamma che va da 50 al 98 pollici per quanto riguarda i mini led tutti i 4k abbiamo i mini led appunto che cosa sono i mini led di mini led sono che la nostra retroilluminazione che va appunto a illuminare il pannello lcd viene colpita dalla luce ma in questo caso abbiamo dei mini led che abbiamo 1300 aree quindi se noi vogliamo fare una zona nera possiamo andare a spegnere quell'area la specifica dovete far conto che l'anno scorso avevamo intorno alle 190 aree adesso con mini led ne abbiamo 1300 ed i vantaggi di tutte queste aree che cosa sono abbiamo un controllo preciso dei contrasti e abbiamo dei bianchi più intensi e più luminosi grazie appunto a queste aree dei mini led veramente straordinario bene poi abbiamo un audio abbiamo un pannello comunque 144 hertz e per i giocatori di videogiochi sono molto contenti di sicuro abbiamo un audio cinematografico griffato onchio e poi tutte queste caratteristiche qui che sono un po meno importanti ma lo stesso molto importanti ora vi faccio vedere la differenza tra i 55 pollici e di 65 pollici che sembrano di 32 pollici vicino a questo 98 veramente si perdono in confronto ed è una tv molto molto importante abbiamo anche google tv come dicevamo abbiamo la possibilità di fare una proiezione dello schermo quindi nell'ambito professionale immaginatevi su un ufficio su un colloquio oppure durante una riunione possiamo proiettare le nostre slide o presentazioni che dobbiamo fare di quello che andremo a discutere in questa riunione praticamente molto molto bene vedete che comunque un bel contrasto un bel nero profondo anche quelli a lato sinistra sono sempre dei mini led e io torno a ripetere venite a vedere dal vivo se volete da grandin l'expert di caurle così vi rendete conto di quanto grande è quanto importante è e la qualità che abbiamo anche del suono perché è molto importante avere un suono così griffato onchio che è veramente spettacolare credetemi venite a provarlo ora vi faccio vedere il telecomando che è in dotazione appunto con il classico telecomando tcl con tutte quante le applicazioni installate amazon prime netflix youtube tcl channel eccetera tasti ben divisi e ben marcati anche una bella gomma veramente in più anche il tastino per l'assistente vocale che vedete qui in alto eccolo qua a me piace perché semplice ma ben fatto come telecomando non abbiamo più il doppio telecomando come avevamo sulla serie precedente che avevamo anche il doppio telecomando poi come dico sempre io è difficile spiegarvela tv così dovete venire a vedere e toccare con mano e capire che comunque adesso siamo su una zona stra illuminata e vedete che bene si vede dietro abbiamo tutte le prese del caso quindi partiamo da un usb 3.0 la presa lan se vogliamo collegarla direttamente in rete cosa che io consiglio sempre meglio del wifi l'hdmi 1 che è 4k 144 hz l'hdmi 2 4k 120 hz il decoder digitale terrestre e satellitare abbiamo l'uscita audio ottica l'hdmi 3 che è un 4k però 60 hz stessa cosa per l'hdmi 4 abbiamo l'uscita delle cuffie e anche un ingresso audio video quindi tutta la dotazione completa qui non si vede però c'è anche un buferone dietro sempre griffato onchio che serve appunto per fare i bassi più profondi il pannello è un pannello q led quindi abbiamo dei colori molto più una gamma di colori molto più ampia e come vedete il design è minimal proprio potete immaginatevelo su una bella parete libera dove possiamo vedere tutto quello che tutto quello che vogliamo trasmettere perché comunque avendo la chromecast all'interno possiamo anche trasmettere quello che vogliamo noi bene io vi lascio con queste splendide immagini che hanno per quanto bene possono essere registrate o non so adesso su che display su quale tv su dove lo state guardando però non rendono giustizia alle immagini che abbiamo reali in un negozio o in un ambiente dedicato appunto alla visione se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al mio canale che è gratuito e attivate i tasti le notifiche grazie a tutti e arrivederci